Hanno un grande futuro, insieme. Punteranno in alto. Potrà dargli tutto il suo amore. I loro anni d'argento sono oro. Raggiungeranno i loro traguardi. Vivranno momenti indimenticabili. Dare e ricevere sicurezza è una scelta di civiltà che è nata con l'uomo. Il Gruppo Cattolica interpreta questo bisogno con prodotti e servizi in grado di creare certezze, da sempre. La nostra capogruppo nasce nel 1896 per proteggere gli aggregatori e il loro bene più prezioso, il raccolto. Questo ruolo sociale accompagnerà il Gruppo Cattolica giorno dopo giorno, anno dopo anno. Siamo radicati al territorio nazionale. I valori etici che ci guidano nascono dalla persona e creano valore per la collettività. Anche per questo il Gruppo Cattolica è l'unica cooperativa in Italia nel settore assicurativo. Ogni nostra attività ruota intorno alla persona ponendola al centro di tutto. Alla famiglia, agli uomini e alle donne, alla loro vita e al loro mondo, dedichiamo le migliori attenzioni con passione e senso di condivisione. I bisogni aumentano. Cresce il livello di qualità e innovazione dei prodotti e dei servizi, sempre più completi, competitivi e personalizzati. Anticipare i desideri, saperli realizzare, mettendo in primo piano il rapporto con i clienti, i soci e gli azionisti, il personale, gli agenti, i partner e i fornitori. Siamo il Gruppo Cattolica. Lavoriamo ogni giorno perché i sogni delle persone diventino realtà. Lavoriamo ogni giorno perché i sogni delle persone diventino realtà. Lavoriamo ogni giorno perché i sogni delle persone diventino realtà. Un grande gruppo, con compagnie e società dedicate a bisogni assicurativi differenti. Protezione dai rischi, difesa del risparmio e previdenza, per la tutela di tutti. Tutto questo è il Gruppo Cattolica. Tutto questo siamo noi. Te lo assicuro.